Allora non vi preoccupate perché c'ho tutto scritto qui, la scaletta, mi so segnato tutto, si è organizzato ogni bene. Allora, noi si comincia così, proprio di stianto, a botta, tanto giovani da far cantare prima non ci sanno perché investimenti nel settore giovanile, nei vivai, non si sono fatti, e comincio io subito, che ore so ora, le sette, l'otto, ecco, per quattro, cinque ore racconto io una serie di boiate, così a rota proprio, anche a caso che non c'entrano niente, giusto come riempitivo per arrivare verso l'una, l'una e mezzo proprio massimo a stacci l'archi. All'una e mezzo si manda una bella scritta, a tutto schermo, è scritto campo aperto, fine prima parte, all'una e mezzo. Pubblicità, e di rientro dopo dalla pubblicità io qui ci ho segnato il quadro di Gandini, quindi entra Gandini, vestito, visto con tutte le fiume, come fa lui, e canta Soldi di Mahmood, quindi volevi solo soldi, quella roba lì. Poi dopo Gandini, Petrucci, Petrucci ci potrebbe essere qualche problema perché lui viene da Roma, da Milano, da dove viene, a volte ci fossero degli incidenti, delle cose che rimane bloccato in autostrada, non c'è problema perché noi ci si manda Buscaglia a Pigliallo in bicicletta, che Buscaglia va sempre a giro, visto lì in Olanda con la bicicletta, quindi neanche quello sistemato. Petrucci mi canta, andrà tutto bene di Nestle, detto Nestle c'ha i nastri isolanti lì nei diti, a Petrucci li si mette nell'orecchio, perché se no, con tutte le volte che si nomina, che si rammenta qui sui canali, attaccano a fischiagli, poi è un casino, problemi da audio, lastre, microfono, bugo, macello. Dopo Petrucci siamo arrivati in fondo, in fondo alla serata, e a quel punto, quindi classifica, stilata dalla nostra giuria demoscopica di intenditori di pallacanestro, quindi Michelini e Bagatta. Questo per la prima sera. Fiori niente, perché io sono allergico, poi non ci avrei manchi il carrello per portarli, sicché verrebbe fuori un macello che non te lo racconto neanche, e domani sera la serata dei duetti, quindi giochi a due, pick and roll, dai e vai, tutta quella roba lì, fino a che non ci arriva l'ultima serata, la finalissima, però la finalissima ci andrà in auto, ancora non lo so se si farà, perché ci siamo resi conto, in corso d'opera, man mano che andava avanti, che i cantanti erano dispari, e quindi uno riposa, però insomma non ci tornano troppo bene l'accoppiamento, quindi è facile che quella sarti. E basta. E questo è... sigla. Il big match. Come settimana scorsa, senza alcun tipo di dubbio, Virtus Bologna contro Reier Venezia, perché anche questa settimana, esattamente come settimana scorsa, si sfidano due delle quattro big assolute sulla carta del campionato. In più ci metti anche che è la riedizione di quella che è stata forse la partita più interessante sotto certi aspetti della Coppa Italia. La Virtus ci avrà anche il dente avvelenato per come è finita proprio quella partita lì, e in quella partita lì uno dei mattatori, forse il migliore in assoluto, era stato Michael Bramos, che però in questa partita qui non ci sarà perché si è rotto. Stessa cosa per Cerella, stessa cosa per Wittmar. Ci aggiungi invece che alla Virtus Bologna gli sono rientrati, perché ci sarà Bellinelli che non c'era in Coppa Italia e probabilmente forse ci sarà anche Paiola, per Venezia non è che metta proprio benissimissimo. Però, come al solito, io non me la sento di scommettere contro Venezia nella maniera più assoluta. Anche perché se Venezia avesse vinto solo le volte in cui partiva da favorita, in Bacheca ci sarebbe una situazione tipo le portroncine di Sanremo, cioè proprio voce. Hai massimo due o tre palloncini con quelle forme bizzarre. Chi riposa? Perché anche questa settimana una squadra riposa e a questo giro tocca a Brescia. Brescia è in un momento particolare della stagione, perché se si considerano soltanto le cifre, il record da quando c'è Buscaglia, quindi 11 partite, e si parametra su tutto il campionato giocato fino a questo momento, cosa abbastanza irrealistica dal punto di vista logico e matematico, ma giusto per capirsi, verrebbe fuori che Brescia sarebbe seconda in classifica, vale a dire prima del campionato delle squadre normali. È tanta roba, è oggettivamente tanta roba. Ci sono due cose, due dubbi che io ho su Brescia. Il primo è la mancanza di un centro vero, puro, di quelli proprio alti, grossi, brutti e cattivi di stazza, però è anche vero che Buscaglia non ce l'ha mai avuto manco a Trento, e non mi pare che ne abbia sentito troppo la mancanza a Trento, e il secondo è il fatto che possa comunque pagare in termini di stanchezza ai playoff eventuali questa rincorsa che ha dovuto fare nella seconda parte di stagione per arrivarci ai playoff. Però comunque c'ha Buscaglia, che anche solo per capire che tipo di allenatore è, ha fatto qualificare l'Olanda all'europeo. L'Olanda, che anche dal punto di vista geografico capisci proprio che i paesi bassi, proprio la palla a canestro, sono portati, proprio. Il possibile upset. Io ci riprovo, dopo settimana scorsa dico ancora la fortitudo, stavolta contro Brindisi, ci credo un po' di più rispetto a settimana scorsa, perché prima di tutto gioca in casa, poi perché Brindisi ovviamente non è Milano, soprattutto direi perché a Brindisi gli mancherà Diangelo Harrison, e non è poca cosa, non è una mancanza di poco conto, e poi anche perché tutto sommato una reazione anche un po' d'orgoglio dopo la debacle di settimana scorsa contro Milano, me l'aspetto da parte della fortitudo. Perché va bene Milano, va bene il roster smisurato, va bene la scarica di triple, va bene quello che ti pare, però la fortitudo di settimana scorsa, forse anche la giuria de Moscovica avrebbe fatto meglio. Forse. La più attesa. Dico Cremona contro Pesaro. Un po' perché voglio rivedere Pesaro dopo la Coppa Italia, probabilmente senza Repeci, ancora non si è capito bene, ma comunque rivedere Pesaro dopo la Coppa Italia per capire se magari la squadra possa iniziare a sentirsi anche un po' appagata, tra molte virgolette, è quella la vera sfida della seconda parte di stagione della VL, trovare gli stimoli per provare a migliorare ancora una stagione che fino a qui è stata fantastica, e poi perché voglio anche rivedere Barford a Cremona. L'esordio mi ha convinto sì, ma fino a un certo punto. Il fine a un certo punto dipende più che altro dalla scelta del giocatore, cioè non dal rendimento di Barford, ma proprio dalla scelta di Barford, perché anche nell'esordio è andato a prendersi più che altro i minuti di TJ Williams, essendo anche Barford una guardia che in avanzatempo fa il playmaker. E il problema che c'era prima a Cremona, cioè che Poeta era costretto a fare troppi minuti perché era l'unico playmaker, secondo me è un po' rimasto. Però se ti manca un play e prendi una guardia è normale che... cioè è come se c'hai la Pausini e fai le due a far cantare Fiorello. Cioè a me garbava anche, mi garba anche Fiorello quando faceva Morgan, quando faceva Mike, quando faceva... cioè bravo, però a cantare la Pausini. Pronostici! E a questo giro state pronti perché settimana scorsa l'ho azzeccata tutta! Quindi stavolta la sbaglierò tutta. Per forza diose. Tra Varese e Sassari dico Sassari perché è troppo più forte. Punto. Tra Virtus Bologna e Venezia dico Virtus per il discorso che si faceva prima sui recuperi degli infortuni e sugli infortuni. Tra Fortitudo e Brindisi dico Fortitudo non lo so perché in realtà ma dico Fortitudo Tra Trento e Milano Tra Trento e Milano dico Milano perché semplicemente gioca un campionato a parte. Tra Cremona e Pesaro dico Cremona perché c'ho dei dubbi espressi precedentemente su Pesaro. Treviso Reggio Emilia dico Reggio perché ha avuto una settimana in più per lavorare e per compattarsi e perché Treviso è ancora col dubbio di Lohet. E tra Trieste e Cantù dico Trieste perché Cantù è migliorata tanto ma secondo me non c'ha ancora la compattezza per andare a vincere fuori casa contro una squadra come Trieste. E siamo arrivati quindi alla notizia della settimana e come al solito è anche un po' una curiosità no? Questa settimana mi ha colpito più che altro un articolo della Prealpina dove si parla di un rumor che riguarderebbe l'arrivo di Meo Sacchetti a Varese prossimo allenatore per la prossima stagione. È una notizia sinceramente importante perché Sacchetti è un allenatore di tutto rispetto che ha fatto bene quasi dappertutto dove è stato il triplete di Sassari ma anche Cremona ma anche Brindisi quasi dappertutto poi è l'allenatore della Nazionale in più tra Varese e Sassari sì te buonanotte tra Varese e Sacchetti c'erano già stati dei contatti si era già cominciato a ragionarne un po' anche nelle passate stagioni poi non si era fatto niente quindi è una notizia importante uno si aspetta magari che ne so che la Prealpina ci abbia avuto dei rumors dei ganci infiltrati all'interno della società di Varese e tette le immagini che si trovano di notte nel parcheggio e la Prealpina che gli dà la valigetta piena di sordi e quell'altro gli dà la busta con dentro scritto l'indiscrezione Sacchetti prossimo e invece no è venuto tutto fuori dal fatto che la Prealpina ha scoperto che Sacchetti ha comprato casa a Gavirate che è in provincia di Varese non lo so amici della Prealpina anche George Clooney ha comprato casa aveva comprato casa su il lago di Homo ma non è che è diventato un personaggio dei promessi sposi per quello e questo è quanto io non non ci ho ancora preso la mano troppo bene con questo discorso della guida al campionato molti di voi hanno apprezzato questo cambio quantomeno momentaneo di programmazione perché così lunedì in live c'è più bagarre perché si parla della giornata che è appena avvenuta e c'è quindi questa sorta di facellone live e poi hanno apprezzato per i pronostici ovviamente tanto siete tutti pronti lì a bacchettarmi a questo giro con tutti quelli che sbaglierò ma non importa ora andiamo avanti qualche settimana poi vediamo non è nulla di definitivo nel frattempo domani non ci sarà l'Alls Up Saturday perché siamo ancora in serrata ma ho buoni propositi per il futuro forse proprio domani si potrebbe fare una live in cui vi spiego un po' l'idea che c'ho se no si fa in settimana magari di straforo una sera così in avanzatempo anche perché poi se mai si dovesse degnare di arrivare il computer di Shotoporter magari recupereremo anche la giornata che perdiamo domani però la via dalla Cina a Siena è impervia e piena di imprevisti e difficoltà è un po' l'idea che di imprevisti Grazie a tutti